Qua c'è il boss Ah, bene Che dovrei fare? Ah, questo Porco Eh, cosa si fa? Guardate Fatta a tempo Non mi ha dato un cazzo Cioè, c'ho il boss Non mi ha dato un cazzo Vabbè, il boss del tutorial Carabin Oh Così si fa le tre Sì Così si fa le tre Va bene Carabin Ok, ciao 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 Ciao